Il 31 ha fatto il discorso di fine anno su Youtube perché gli hanno spiegato che c'è Youtube, c'ha dei consiglieri, uno di 91, uno di 94, l'altro di 87, hanno un catetere in quattro e scoprono Youtube e Youtube pensano che sia una televisione e allora ha cominciato il discorso, il 31 il nostro Presidente ha cominciato il discorso sulla rete e mentre parlava gli arrivavano già i commenti, la rete è immediata, i tuoi cittadini ti stavano rispondendo e visto il clima dei commenti li ha chiusi immediatamente, hanno paura, Mastella è stato l'unico che ha avuto il coraggio di aprire un blog, l'ha aperto due giorni, gli sono arrivati 16.000 commenti che il più normale era, stavate scucin' mamma, di tutto, l'ha chiuso, ha chiuso subito i commenti, no? Pensando di essere al sicuro ma la rete reagisce, la rete ha reagito immediatamente, hanno clonato esattamente il sito di Mastella chiamandolo dementemastella.com e la gente che voleva dire qualcosa su Mastella andava lì, tu andavi